Avanzo mascherato, larvatus prodeo. Si tratta di una celebre espressione racchiusa nell'opera di Cartesio, espressione con la quale Cartesio in qualche modo dipinge il proprio contegno personale, tratteggia quella che è stata la propria modalità fondamentale di operare nel mondo. Avanzo mascherato, che significa in estrema sintesi procedo in maniera coperta, non faccio emergere la mia soggettività, la nascondo dietro maschere. Se ci pensiamo in effetti l'intera opera cartesiana, quale magnificamente si esprime nel celebre discorso sul metodo o nelle meditazioni metafisiche, si caratterizza essa stessa per essere un grandioso tentativo di nascondimento della soggettività. Spesso si dice essere Cartesio il fondatore della soggettività moderna, colui che per primo caratterizza la filosofia, che è poi un tratto tipico dell'intera modernità, come filosofia del soggetto. Ciò che non si dice troppo spesso però è che in quest'operazione di Cartesio la fondazione del soggetto procede di conserva con il nascondimento della soggettività vivente propria del soggetto. A differenza del soggetto di Montegne, il soggetto dei saggi di Montegne, che è un soggetto che continuamente si mette a nudo, esponendosi per così dire allo sguardo del lettore, mostrando le proprie carenze, i propri difetti, le proprie debolezze, il soggetto cartesiano procede in maniera diametralmente opposta. Si nasconde, si maschera, nulla dice di sé. La conoscenza in fondo, in Cartesio, è tanto più certa quanto più è disancorata dalla soggettività vivente di colui che ne è portatore. Si produce in qualche modo un oiato fra la soggettività vivente in carne ed ossa del soggetto e il contenuto oggettivo del mondo che questo soggetto porta in sé conoscendolo. Si crea cioè un vero e proprio iato fra la res cogitans e la res extensa, fra il pensiero pensante del soggetto e il mondo pensato oggettivo. Il mondo oggettivo deve essere per così dire conosciuto in un modo che deve essere per Cartesio certum et in concursum. Certo è, per così dire, tale da fondarsi in maniera indubitabile, deve essere conoscibile in maniera chiara e distinta, ma proprio perché questo obiettivo sia ottenuto occorre separare l'oggetto dal soggetto, occorre disgiungere l'oggettività pura del mondo dalla soggettività operante in esso. Il soggetto deve mascherarsi continuamente, nulla deve dire di sé, deve stare ai margini della realtà, deve procedere mascherato, come Cartesio dice e come peraltro Cartesio per tutta la vita fece, rinunciando sempre a essere attivo nel mondo, procedendo come spettatore più che come attore, secondo quanto egli stesso afferma nelle sue opere.